Mi raccomando, questa volta, diversamente da Genova, chi fa il black blocks non fa la polizia. Sceglietevi i ruoli prima, chi fa la polizia non fa il black blocks. Che l'altra volta l'ho fatta la foto, due guaglioni l'ho fatta, tutte entrambe le cose, un po' un fotografo inglese che poi sappiamo la fine che ha fatto, l'abbiamo dovuto essere caduto, si è imbiccato, non mi ricordo che cosa abbiamo fatto.